Lo scenario economico che noi vediamo è uno scenario assolutamente incerto, imprevedibile come è il clima che viviamo meteorologico di questi giorni. Il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, la rettino Giuseppe Salvini, delinea in un'intervista rilasciata alla nostra trasmissione, l'edicola di Piero, lo scenario economico a cui ci troveremo di fronte, alla ripresa del lavoro a settembre. Nubi all'orizzonte e tante incertezze, anche se Arezzo e la Toscana reggono per il settore manifatturiero che segna una netta ripresa. Devo dirvi che seguendo i dati che anche recentemente sono usciti sia con riferimento all'export che al PIL, ecco i dati ci consegnano una situazione che ancora vive di questo rimbalzo. Io vorrei ricordare che dopo la caduta verticale del 2020, la peggior caduta degli ultimi cento anni, eccetto il periodo bellico, una caduta verticale in Toscana del 9,7% di PIL, il rimbalzo successivo del 2021 ha fatto acquisire alla Toscana una più 6,5% di PIL, addirittura un più 16% a Firenze, un 27% di export, in più rispetto all'anno prima. Questo scorcio di 2022, dai dati ufficiali, fa registrare ancora un segno positivo che testimonia una grande capacità di resilienza delle nostre imprese, un segno positivo, l'abbiamo letto tutti nei giornali, di un più 4,6% di PIL del primo trimestre del 2022 rispetto al 2021, un più 11% dell'export. Però, 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 ci sono tanti però su questo quadro, perché evidentemente è una situazione molto polverizzata, molto a macchia di lopardo, questa progressione importante, poi magari ne parliamo più approfonditamente, ha interessato il manifatturiero, soprattutto l'alto di gamma, dalla moda all'oreficeria di Arezzo, alla meccanica di precisione, al digitale, all'agroalimentare di qualità, il vino, per esempio, non ha interessato larghi settori del terziario, non ha interessato questa ripresa vigorosa, le libere professioni. Quindi è stata, ancora viviamo, un effetto trascinamento per alcuni settori, segnatamente, ripeto, il manifatturiero di qualità, di alto di gamma, rispetto al 2021, però ci sono grandi incertezze, acuite dalla situazione conflittuale ucraino-russa. La iperbolletta energetica, abbiamo letto in questi giorni, siamo arrivati a 240 euro al megawattora, quindi una bolletta energetica che rappresenta un rischio enorme per la continuità produttiva di tante aziende, per tante attività anche del terziario, del commercio, una bolletta energetica che aumenta anche l'inflazione che spiora l'otto per cento, abbiamo sullo scenario prossimo anche l'aumento del costo del denaro, 50 punti base decisi già dalla BCE, dalla Lagarde, quindi una difficoltà di reperire fonti di finanziamento, il che, ecco, questo ci dà un po' lo scenario che abbiamo di fronte, uno scenario che probabilmente sarà all'insegna dell'incertezza e di un quasi sicuro rallentamento. Su questo va a incidere anche l'alto debito pubblico italiano, oltre 2.700 miliardi di euro che rende questo debito pubblico così alto, sempre elevatissima la spesa per interessi che lo Stato deve corrispondere e rende anche il lasco di manovra pubblica un po' abbastanza, direi, limitato. Quindi uno scenario futuro che ci si palesa di rallentamento, qualche segnale lo abbiamo già, di rallentamento, nonostante i dati che vi dicevo prima che fotografano il primo trimestre dell'anno, ma stanno emergendo segnali di rallentamento di incertezza dovute a queste variabili, corso dell'energia, corso delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento e aumento, cospico, evidente, traslato sui prezzi dell'inflazione. Grazie. Grazie.